Questa è Engage Spot Parade, la nostra rubrica dedicata alle migliori campagne del mese, votate direttamente dalla nostra community. Nuovo sondaggio e quindi nuova classifica per il migliore spot andato in onda durante l'estate. Partiamo dal podio! Medaglia di bronzo per Coca-Cola che in occasione delle Olimpiadi 2024 ha lanciato la sua nuova campagna pubblicitaria globale in collaborazione con WPP OpenX. Il messaggio è positivo e si focalizza sul gesto dell'abbraccio interpretato da alcune delle stelle del nuoto mondiale. Al secondo posto troviamo Kono 5 Stelle, San Montana che nella nuova campagna celebra tutti i momenti dell'estate. Uno spot che ci fa vedere Koni ovunque, da quelli più in bella vista a quelli che solo la mente di un vero fan può cogliere. La firma creativa è di Auge Communication. Vince Rio Mare con lo spot Great Taste Needs Little in un mondo in cui tutto sembra spesso troppo complesso quando il cibo è buono e di qualità non ha bisogno di altro. Questo è l'espediente narrativo con cui il brand di Bolton ha dato il via alla nuova campagna TV realizzata in collaborazione con l'agenzia creativa Le Pub Italy. Questa è Engage Spot Parade, la nostra rubrica dedicata alle migliori campagne del mese votate direttamente dalla nostra community. Ci vediamo presto su Engage.it per eleggere ancora una volta la migliore creatività del mese.